Il prossimo weekend a Casnigo l'importante appuntamento con Bere Bergamo, una manifestazione che non vuole solo promuovere il consumo del vino, ma anzi, diciamolo pure, un appuntamento culturale. Sì, sicuramente è un appuntamento culturale, anche molto intrigante, perché vuole unire insieme una parte gastronomica, una parte musicale e una parte culturale. Intrigante e anche un po' ricercata, direi aristocratica se non fosse un termine che oggi è usato, è desueto ed è usato in modo piuttosto negativo. Praticamente si tratta di degustazioni di vini tipici a Valcaleppio, poche sorsi di vino centellinati di quattro tipi, sempre vini alti e vini doc. La domenica poi addirittura il passito, il discanso e gli altri passiti, con le dolcezze, le delicatezze di Monica, che è una pasticciera che fa dei pasticcini piccolissimi ma gustosi, che si liquefano in bocca. Ciò che si sciolgono. Si sciolgono, è più facile, perché se no mi corre la lingua subito. L'altra parte culturale, invece, include la parte culturale, lo Stava Mater, col complesso musicale Ortus Musicus, la soprano e la Elena Bertocchi, poi c'è Contralto, il direttore, eccetera. E' una cosa molto grande nella cornice della Santissima Trinità, questa bellissima chiesa del 1300, una chiesa romanica, una delle più belle chiese, delle più antiche chiese della Val Seriana. Purtroppo non sempre conosciuta come si dovrebbe, perché quando io porto qualcuno alla Trinità mi dicono, ma voi avete qui un tesoro enorme, non sapete valorizzarlo. Stavolta cerchiamo di valorizzarlo sia per i palati dal gusto raffinato dal punto di vista della cultura e dell'arte, sia per i palati dal punto di vista raffinato, dal punto di vista del vino e delle delicatezze. Altre cose ci saranno i baguette, che non è altro che la corna musa vergamasca di cui Casnigo è ormai paese doc, perché noi abbiamo fatto una delibera appropriata in cui ci diciamo Casnigo paese del baguette. Poi ci saranno i rataplam, ci saranno anche delle poesie recitate da attori, soprattutto legate al gusto del vino, del vivere insieme e della cultura. Quindi un qualcosa di veramente alto. Molte persone sono state invitate, altre ci sono addirittura 8 invitate, perché appena hanno saputo mi hanno detto, noi in Berti ci veniamo poi da Rangitù a trovarci il posto per sederci. Ricordiamo l'ora e il giorno? Allora, ora è il giorno, si parte dal 10 di settembre, giovedì e si arriva alla domenica verso le 7 e le 8, perché dalle 5 del pomeriggio alle 7 e alle 8 abbiamo questo famoso Stabat Mater. Poi ci sono delle cene a invito e vi assicuro… ah, l'ultima cosa perché se no il gruppo culturale d'antrospito si arrabbia, ci sono le visite guidate alla Santissima Trinità. L'anno scorso abbiamo fatto più di 40 visite guidate, che facendo il conto che ogni visita guidata aveva delle 15 e 25 persone, sono 800 persone che hanno potuto per tre quarti d'ora conoscere a fondo i dipinti di Santissima Trinità. Gli affreschi del 1300-1400, l'affresco del giudizio universale molto bello del Baschenis, Cristoforo Baschenis, non quello dei violini panciuti, che è un suo discendente di un secolo e mezzo dopo, di Cristoforo Baschenis. E poi anche la pala dell'altare, che è un politico, quindi non è un politico, è un politico, cioè vuol dire che la pala non è fatta da una sola immagine, ma fatta da tanti piccoli quadri messi assieme in questa grande pala del Previtali. È sicuramente una cosa da vedere, anche perché oltretutto, e siamo a settembre, c'è la maestosità del primo autunno in un ambiente naturale stupendo.